Per i quaderni del Bardo Edizione abbiamo pubblicato la raccolta di prose poetiche e di foto di Annelisa Dolorato dal titolo Mandala di Luce con la prefazione di Serena Rossi e un mandala pittorico all'interno della pubblicazione di Patrizia Minardi. Si tratta di una raccolta dove ogni parola è al posto giusto, proprio perché fa parte di un mosaico di dialoghi costanti tra due forze, quelle del cielo e della terra, un po' la base poi della filosofia alchemica spirituale di Hermede Trismagisto come in alto così in basso, ma anche attraverso quella che è la costruzione di un rapporto del proprio sé verso il mondo attraverso la coltivazione del silenzio e dell'armonia. Già, perché fondamentalmente la costruzione dell'abitarsi e dell'abitare in una costante prospettiva di armonia fa parte dell'essenzialità del lavoro poetico e di scrittura di Annelisa Dolorato.